Le anime rare a volte servono il mondo rimanendo principalmente nella meditazione trascendente, inviando potenti vibrazioni spirituali per bilanciare i mali del mondo, ma queste anime si rinchiudono in luoghi remoti e raramente o mai appaiono davanti agli uomini comuni. Ho scritto di uno di questi avatar, ma Avatar Babaji, nell'autobiografia di uno yogi. La natura stessa si erge impotente davanti a lui. L'uomo che inciampa nel sentiero della vita ha bisogno non solo delle silenziose benedizioni che scaturiscono da questi benefattori spirituali, ma anche di esempi familiari che vivono come esseri mortali per rafforzare il coraggio, la fede e il desiderio di Dio e per mostrare la via della redenzione. Così fanno i divini che scelgono per il loro servizio il contrastato ambiente umano. Uno di essi è il Avatar Babaji, per il quale il respiro, gli atomi corporei, la vita stessa, non sono altro che luce manipolabile e pensieri di Dio. Tutto fornisce una prova del potenziale dell'uomo di padroneggiare le forze vitali del suo corpo un tempo materialmente testardo. Nessun profeta è autorizzato da Dio a rimanere sulla terra davanti allo sguardo del pubblico per sempre. Babaji ha conservato il suo corpo per un tempo indefinito, ma non gli è permesso ostentare questa speciale dispensa davanti al mondo. Ecco perché non è disponibile per l'umanità, se non attraverso il silenzioso conferimento delle sue benedizioni. Sebbene sia sempre vivo, si nasconde. La sua anima, completamente risolta nello spirito, lavora per l'elevazione del mondo in onnipresente unità con il Dio infinito e con lo specifico corpo finito che abita. Ma Avatar Babaji predisse Il Kriya Yoga, la tecnica scientifica della realizzazione di Dio, alla fine si diffonderà in tutte le terre e aiuterà ad armonizzare le nazioni attraverso la personale percezione trascendentale del Padre Infinito. Il Kriya Yoga è una scienza antica, ma durante i secoli bui la sua conoscenza andò perduta perché la gente non riusciva a comprendere l'idea delle forze sottili dell'elettricità e dell'energia con cui il Kriya lavora. Ma ora siamo in una nuova era, un'era scientifica, e le persone in generale possono comprendere di nuovo il principio del Kriya Yoga. Come sapete dalla lettura dell'autobiografia di uno yogi, il grande Mahavatar Babaji risuscitò la tecnica perduta e le insegnò al suo devoto, il maestro Lahiri Mahashaya, che divenne il primo ad insegnarla apertamente in quest'epoca. Babaji disse a questo suo grande discepolo «Sei stato scelto per portare conforto spirituale attraverso il Kriya a numerosi sinceri ricercatori. I milioni di persone che sono gravati da legami familiari e pesanti doveri mondani prenderanno nuova speranza da te, un capofamiglia come loro. Dovresti guidarli a capire che i più alti conseguimenti yogici non sono preclusi al padre di famiglia. Anche nel mondo lo yogi che adempie fedelmente le proprie responsabilità senza motivi o attaccamenti personali percorre il sicuro sentiero dell'illuminazione. Un dolce e nuovo respiro divino, la speranza, penetrerà nei cuori aridi degli uomini mondani. Dalla tua vita equilibrata capiranno che la liberazione dipende dalle rinunce interiori piuttosto che da quelle esteriori. Pochi mortali sanno che il regno di Dio include il regno degli addempimenti mondani. Il regno divino si estende a quello terreno ma quest'ultimo, di natura illusoria, non contiene l'essenza della realtà. In quest'epoca, la stessa velocità del cambiamento può essere percepita come un nemico. Le incertezze causate dai rapidi cambiamenti hanno inaugurato un'ansia pervasiva di basso grado che pone le persone sotto costante stress interiore. Molti si svegliano ogni mattina con una sensazione di terrore e attraversano la routine della giornata con una penetrante incertezza sulla loro capacità di far fronte al futuro. È fin troppo facile di questi tempi sentirsi una vittima incolpare un ambiente che è fuori controllo invece di intraprendere un attento processo di apprendimento per cambiare se stessi. I maestri insegnano che quando meditiamo profondamente e pratichiamo la presenza del Divino scopriamo risorse illimitate che possono ripristinare la nostra fiducia e approfondire la nostra fede. La più grande fortezza contro le difficoltà e lo scoraggiamento è il Kriya Yoga di cui il Mahavatar Babaji disse anche solo una piccola pratica di questo Dharma ti salverà da grandi paure.